Per preparare il pane fritto, versa innanzitutto 4 tazze, 500 g, di farina multiuso in una ciotola di dimensioni medie. Incorpora poi mezzo cucchiaino, 3 g, di sale, un cucchiaio 20 g di lievito in polvere e una tazza e mezza, 360 ml, di acqua tiepida. L'acqua dovrebbe avere una temperatura di circa 45 gradi celsius. Lavora il composto fino a ottenere un impasto soffice, ma non tanto da renderlo appiccicoso. Dividi l'impasto in sfere dalla larghezza di circa 8 cm, dunque appiattiscile fino ad ottenere dei medaglioni alti più o meno un centimetro. Realizza un piccolo foro premendo un dito al centro di ciascun disco. Infine, friggi un medaglione alla volta in circa 3 cm di grasso alimentare caldo. Gira i dischi per assicurarti che diventino dorati su entrambi i lati. Quindi mettili sulla carta assorbente per eliminare l'olio in eccesso. Servi il pane fritto con le guarnizioni che desideri, dalla carne macinata al formaggio.